Buon pomeriggio a tutti. Io intanto ringrazio il CHOFS per l'invito. In verità questo invito si colloca in una giornata un po' complicata, ma in qualche modo anche complementare, pure rispetto alle cose dette, perché noi stiamo celebrando in un altro territorio alcuni spunti di riflessione che vanno proprio nel senso di mettere in linea il sistema della formazione e le innovazioni che ci porta il mondo del lavoro, in questo caso, in quel caso, legato soprattutto alla green economy e alla blue economy. Sto parlando del salone nautico di Brindisi, dove c'è un'incursione formativa. Perché incursione formativa? Permettetemi di dire perché la formazione è alla base di qualunque processo economico, nel senso che non si può pensare di uno sviluppo del territorio senza un'idea di valorizzazione del capitale umano. Utilizzo questo termine, valorizzazione del capitale umano, perché sono due termini che messi insieme danno l'idea, diciamo, della responsabilità che abbiamo verso il mondo delle nuove generazioni, ma anche il mondo adulto. Perché il capitale è tale, si ha la capacità di riprodursi, di rinnovarsi, di rigenerarsi, altrimenti perde la qualificazione del capitale. Io, tuttavia, nei miei saluti, non mi voglio sottrarre ad alcune sollecitazioni poco fa avviate da Padre Mero, perché su alcuni aspetti stiamo insieme. Intanto, fatemi dire questo, la Regione Puglia, anche nell'assegnarmi l'incarico, che è stato declinato poc'anzi, ha voluto cogliere il concetto di cittadinanza attiva, che è un concetto che un po' fa da pandan al vostro concetto di centralità della persona. Eh, diciamo, è una, è un'accezione un po' laica, ma cittadinanza attiva è capacità non soltanto di riconoscimento di diritti, ma anche la possibilità di tutelare questi diritti, la possibilità di essere esercitati. Tra questi diritti, che stanno a presidiare la cittadinanza attiva, ci sono i diritti civili. E tra i diritti civili ci sono quelli dell'istruzione e della formazione. Per tale ragione, eh, tutta la parte che voi avete presentato nella vostra brochure, è una parte, eh, anche in qualche passaggio critico, ma che io mi permetto di condividere appieno in alcuni aspetti. E, e, e di questi aspetti voglio cogliere quanto segue. Entrerò anche nella legge regionale, eh, nella proposta di legge regionale. Allora, noi stiamo avendo, stiamo avendo un momento di, eh, di grande modifiche normative. Alla base dei diritti civili, al di là di chi è il soggetto costituzionale erogatore, proprio per permettere la cittadinanza attiva che anche nel libero esercizio all'interno del territorio nazionale e nel territorio europeo dei diritti civili, nello specifico dell'istruzione e formazione, esiste la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni. Questi livelli essenziali delle prestazioni oggi sono oggetto della revisione normativa che riguarda l'autonomia differenziata. I livelli essenziali delle prestazioni, eh, vanno ad essere definiti attraverso una rilevazione della spesa storica e anche di quelle che sono, eh, il, eh, il modo in cui le singole regioni hanno assegnato a questi diritti civili, nello specifico la formazione professionale, le risorse. Se tale spesa storica è stata spacchettata, dal, dal fabbisogno poi verrà la definizione anche dei nuovi livelli essenziali delle prestazioni e l'erogazione da parte dello Stato di tale, eh, parte che riguarda la costruzione del sistema formativo. Bene, eh, lo spacchettamento riguarda il fatto che vengono definiti per l'analisi della spesa storica lo stanziamento statale e lo stanziamento di bilancio di esercizio. E mentre, diciamo, che tutto il Sud ha in qualche modo somministrato, eh, tutto il segmento della formazione professionale attraverso il mezzo della sussidiarietà. Non fosse altro perché noi abbiamo una, una, eh, importante consistenza del programma operativo regionale, non fosse altro perché appartenevamo all'ex obiettivo unico e oggi all'obiettivo convergenza. Quindi, diciamo, eh, il, il, la somministrazione in termini di finanziamento del Fondo Sociale Europeo del POR è consistente. Questo ha fatto sì che le regioni del Sud, che stanno in questo pacchetto, hanno erogato la formazione professionale, soprattutto, eh, qui vedo la dottoressa Calzetta che su queste cose, eh, si trova sia sulle misure della nuova programmazione POR, ma anche del PON, per quello riguarda alcuni, alcune sue misure. La dottoressa Calzetta è la dirigente, la responsabile della sezione formazione professionale del Dipartimento Istruzione e Formazione e Lavoro. Questo è già un aspetto che ci fa capire che probabilmente vi sarà un problema della base di calcolo. Domanda, questo interesserà soltanto la formazione professionale? La risposta è no, è stato, anche nella brochure si è fatto riferimento, alla riforma dell'istruzione, della istruzione tecnica e professionale, varata a settembre scorso, e che adesso aspetta la sua declinazione in termini di normazione secondaria, ma anche di accordo Stato-Regioni, o nel caso del livello regionale, di accordo tra Regione e Ufficio Slasco regionale. Perché? Perché l'istruzione tecnica e professionale, accorpata insieme, mentre prima ieri avevamo l'istruzione tecnica e l'istruzione professionale, compirà una sperimentazione legata al quarto anno, che mette insieme i livelli dell'istruzione, ma anche tutto il parterre che ha riguardato la formazione professionale, e cioè la formazione professionale, l'istruzione e formazione professionale e l'istruzione e formazione tecnica, l'IFTS, fino ad arrivare all'ITS per questa curvatura ascensionale, diciamo così, in verticale. Cosa voglio dire? Voglio dire che quello che fino a ieri, come autonomia riferenziata, stava nel perimetro della formazione professionale, oggi, ovvero nella riforma, andrà a invadere anche il perimetro della riforma dell'istruzione tecnica e professionale, perché si accompagnerà in una sorta di accordo trasversale con tutto il mondo della formazione professionale. Quindi il destino della formazione professionale domani sarà anche il destino dell'istruzione, non dimenticando che la definizione delle competenze in uscita nella riforma dell'istruzione e formazione professionale, l'accertamento delle competenze in uscita non sarà più né della formazione, né del sistema dell'istruzione, ma sarà fidato a un soggetto terzo che è l'Invalsi, che è un ente in house del Ministero dell'istruzione, autonomo per definizione, ma che non appartiene a nessuno dei due soggetti erogatori. Quindi, nel avvicinarmi anche alla risposta che riguarda la legge di riforma, voglio dire che, seppur vero che non siamo andati ad elaborare il pacchetto successivo, cioè l'elaborazione della legge di riforma sulla formazione professionale, che riconosco è legata al 2002, rispetto al 2002 c'è stata tanta normazione, a ricominciare dalla modifica degli enti provincia, della norma del Rio, che prima era il presidio della formazione professionale, che poi non l'è stata più. Quindi, riconoscendo questo, voglio dire che oggi, cioè, se non c'è stato tempo ad allinearci alla novità, oggi c'è un'altra novità che incombe, di cui noi conosciamo un pezzetto, ma non conosciamo ancora l'altro pezzetto importante, che è l'autonomia riferenziata. Quindi, torno alla cittadinanza attiva e chiudo. Quello è il nostro faro, per quanto riguarda il sistema regione, che chiaramente ha una visione di esercizio dei diritti, io riconosco anche la centralità della persona, che è, diciamo, il core della vostra missione e funzione. Però è lì che dobbiamo guardare. Noi dobbiamo guardare quanto di tutto questo entra effettivamente nel riconoscere i diritti civili e nel riconoscere la praticabilità, da parte di ciascuno, dei diritti civili, che sono quelli di una crescita inclusiva, capace di mettere tutti in condizione di realizzare il loro progetto di vita, ma anche di poterlo riconvertire, secondo il principio appunto dell'Airlanding, che non trova più menzione nelle norme di riforma e che invece è presidio della normazione europea. L'ultimo ringraziamento sta nel fatto di aver voluto dare a questi temi, che sono temi complicati, occasione di discussione pubblica, divulgativa, perché? Perché non c'è cittadinanza attiva se non c'è consapevolezza e non c'è consapevolezza se non c'è conoscenza. Quindi la conoscenza da parte di chi? Di addetti ai lavori? No. La conoscenza dei cittadini, dei singoli, di tutti, perché noi dobbiamo elaborare, tutti quanti, la nostra elaborazione critica delle cose, il nostro ragionamento delle cose, per far sì anche di muovere, diciamo, i decisori orientandoli dal basso verso quelle norme che poi ovviamente saranno le norme che determineranno il nostro destino. Vi ringrazio e vi saluto.